Oh che bravo! No, non è possibile! Vai per qui! Ciao Ariotto! Mi dai 8! Mi dai 8! Mi dai 8! Scusate ragazzi! Sono almeno 6! Ah 6? Non dai mai 6! Non dai mai 6! No, facciamo una cosa ordinata! Una cosa ordinata! Allontanatevi un po' Così c'è il posto per la foto Io metto un braccio così e così Quelli che devono fare un po' non lo faccio 10! Ok ok Scusate Scusate Non voglio Scusate Posso? No! Vi facciamo entrare! Signore venga com'è! Venga dentro! Ma lui è contento di stare tu qua? Venga solo! Vabbè! 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 Umile! Vabbè! Vabbè! Deve andare! Deve andare! Deve andare! Attenzione! Attenzione! Grande Fausto! Grande Fausto! Sì! Bravo! Vabbè! Sì! 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 Vabbè! Parliamo! Vabbè! La sua persona, prova fondamentale Proverbo Sì! La sua persona era Grazie a tutti. Grazie a tutti. Viermo, questa signora, grande, grande.